Oggi c'è una novità che proprio ti conquisterà Ai fornelli già lo sai che grande scelta diventerai Bonta pronte, fai ricette a volontà Bonta pronte, fantasia e creatività Bonta pronte, è un campione anche papà Bonta pronte, due minuti e voilà! Tante ricette gustose per chi ha molto estro e poco tempo Nuove Bonta pronte garantisce il riso gallo Kikirikki di fantasia Grazie